A risveglio in ospedale mi sono reso conto che non avevo più i miei effetti personali, che il personale la sera precedente mi aveva messo sotto il mio lettino. Una bruttissima sorpresa a risveglio dopo una notte passata al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara e quanto accaduto a un sessantenne triestino che dopo un improvviso ricovero sabato scorso ha passato la notte nella saletta di terapia intensiva temporanea del triage. Tutti gli effetti personali e i vestiti erano stati accuratamente inseriti nel classico sacco di plastica dagli inservienti di Asugi e posizionato nell'apposito spazio sotto la lettiga. Domenica mattina del tutto nemmeno l'ombra per lo sconcerto anche degli stessi sanitari. Allora dentro la borsa c'era il mio abbigliamento che era un giubbotto, la camicia, il maglione, però quello più significativo era il portafoglio con tutti i documenti, carta di identità, carta di credito, bancomat, patente e anche un 280 euro in contanti. Comunque è un valore considerevole perché oltre questo danno qua anche tutto quello che dovrò ancora subire saranno minimo 1000 euro. Bloccate le carte di credito, il bancomat ha allertato il fabbro per cambiare la serratura della porta blindata di casa. Il sessantenne, dimesso proprio domenica mattina, Asporto denuncia alla polizia. Il tema è ancora una volta quello della sicurezza negli ambienti ospedalieri, questa volta però non per le aggressioni fisiche e verbali ai sanitari, che stando alle ultime statistiche sono state 629 nel 2023 in regione, ma per i potenziali furti ai degenti che, come noto, dopo il Covid non possono essere più accompagnati al pronto soccorso, salvo condizioni speciali di disabilità o età avanzata. Quindi uno spunto per le possibili soluzioni. Ecco, io ho avuto la fortuna anche che ho delle persone familiari che ho potuto anche chiamare e anche poter rientrare nella mia abitazione, ma mettiamo il caso che ci sia stato una persona che abita da solito, un povero anziano, cioè questa situazione, l'azienda sanitaria deve trovare una soluzione in maniera che chi viene ricoverato, l'azienda prenda in carico, se non ha familiari, in carico appunto gli effetti personali e che vengano messi in qualche cassetta di sicurezza o qualche armadietto con le chiavi e che magari gli danno una chiave applicata come bracciale al paziente.